Attenzione, il video che segue potrebbe contenere un alto quantitativo di trash. I più sensibili sono pregati di estenersi dalla visione. Grazie. Ad Eternia c'è chi lotterà per difendere la libertà, ferita dai malvagi serbi dell'oscurità. A difendere il castello c'è una spada buona, un principe, un sacretto rivelato solo dalla luce per il potere di Grey Skull. A difendere il castello c'è una spada buona, un sacretto rivelato solo dalla visione, un sacretto rivelato solo dalla visione. A difendere il castello c'è una spada buona, un sacretto rivelato solo dalla visione. Per il potere di crescord La forza si assunti Human and the masters of the universe Justizia lo sarà Il porto di un nazione anima Human and the masters of the universe Di quanti grandi heroi Il porto di un nazione anima Un minore Il porto di un nazione anima Di quanti grandi heroi Il porto di un nazione anima non ho mai Hiddon 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 Grazie a tutti.